Buon pomeriggio, edizione delle 16 del nostro telegiornale, apriamo subito con una notizia che arriva da Padova dove è stato denunciato un uomo classe 64, padovano con accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo sarebbe responsabile della morte di Fabrizio Copetti, 55 anni, originario di Gemona del Friuli, investito e lasciato agonizzante per strada nella serata di lunedì 6 febbraio. Attraverso i video delle telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti della polizia locale sono riusciti a ricostruire la dinamica e individuare il pirata della strada. Sequestrata la Citroen di proprietà del 59enne, l'auto presenta danni al parabrezza. Fatta chiarezza dunque su quanto accaduto dopo che erano state ventilate tante ipotesi, compresa quella della rapina finita male. Adesso invece parliamo dell'operazione della Guardia di Finanza per un giro che porta a fraude fiscale, ha indagini per fraude fiscale, dopo un'indagine per fraude fiscale nell'ambito delle aziende che si occupano di carta, le cartiere. Ce ne parla Angela Caino. 24 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti e Univa e Vasa che supera i 3 milioni di euro. Due numeri per delineare i contorni dell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Udine, che ha visto coinvolte 37 imprese operanti nel settore della produzione e del commercio di carta. Secondo quanto emerso dalle indagini, la cellulosa, materia prima utilizzata per la produzione della carta, veniva commercializzata attraverso uno schema preordinato di cessioni e di acquisti tra diverse imprese con sedi in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea, al solo scopo di far ricadere gli obblighi tributari del pagamento dell'IVA su soggetti che in realtà non provvedevano poi ad effettuare alcun versamento a favore dell'erario. In questo modo i beneficiari della presunta frode avrebbero ottenuto un indebito vantaggio fiscale e soprattutto avrebbero potuto operare sul mercato a prezzi del tutto concorrenziali a svantaggio degli operatori economici onesti. I militari delle Fiamme Gialle di Udine hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, su richiesta della Procura, nei confronti di sei società e di otto persone fisiche operanti tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Sono state sequestrate somme di denaro presenti nei conti correnti, crediti, beni mobili e immobili per un valore di oltre 600 mila euro. Tutto è pronto per il nuovo incidente probatorio dopo la riapertura del caso Una Bomber. David Zanirato. Sarà eseguito nelle forme dell'incidente probatorio l'accertamento genetico sui dieci reperti sequestrati a suo tempo nell'ambito delle indagini sugli attentati attribuiti al cosiddetto Una Bomber. A renderlo noto il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo precisando che si tratta di reperti che appaiono utilmente sottoponibili a tale attività tecnica. In questo senso il presidente della sezione per le indagini preliminari Luigi Dainotti ha fatto notificare ieri agli interessati il relativo provvedimento accogliendo la richiesta fatta dallo stesso procuratore e dal suo sostituto Federico Frezza. Il giudice ha nominato i periti Elena Pilli dell'Università di Firenze e il colonnello Gian Pietro Lago comandante del RIS di Parma stabilendo per l'affidamento formale dell'incarico l'udienza del 13 marzo prossimo. I nuovi indagati oltre ad Elvo Zornitta l'ingegnere di Azzano X scagionato nel 2006 dopo un calvario giudiziario che l'ha duramente provato a seguito del famoso lamierino considerato la prova principale raccolta dagli investigatori che poi si è scoperto era stata manomessa. Sono il fratello Galliano, i fratelli gemelli di Sacile Lorenzo e Luigi Benedetti, Claudio e Dario Bulocchi, anche questi fratelli di Fontana Fredda, Luigi Favretto di Tarcento, Angelo Lasala di Sequals, Cristiano Martelli di Azzano X, Giovanni Fausto Muccin di Casarsa della Delizia, mentre l'undicesimo nuovo nome mai entrato in passato nell'inchiesta sugli attentati di una bomber dal 94 al 2006 è quello di Luigi Pilloni, 61 anni, cagliaritano, ma residente a Gaiarine in provincia di Treviso. Rispetto poi ad un nuovo attentato aggiunto ora all'inchiesta bis nella lista dei 28 già noti, spunta una bottiglietta di Coca-Cola contenente un ordigno inesploso ritrovata il 28 ottobre 2007 a Zoppola. L'iscrizione sul registro degli indagati per tutti loro per la violazione dell'articolo 280 del Codice Penale, ovvero l'attentato per finalità terroristiche, è un passaggio obbligato per la Procura, necessario per evitare eventuali nullità procedurali. In questo modo ai sospettati viene garantita la possibilità di nominare un legale e un consulente che potranno seguire da vicino le fasi di analisi da cui potrebbero emergere prove utilizzabili in un eventuale dibattimento. Il contraddittorio tra le parti dunque sarà garantito sin d'ora. Non si è ancora concluso il dibattito tra i gestori dei distributori di carburante, il governo e anche le categorie interessate da eventuali aumenti, praticamente tutte, dai consumatori ai trasportatori a chi si sposta per lavoro. Ovviamente il Ministro Salvini oggi ha parlato di una nuova possibilità di abbattimento delle accise, solo però se il prezzo del carburante tornerà a superare i 2 Euro. Sentiamo Salvini. Sul caro carburante ha detto che se dovesse tornare di nuovo sopra i 2 Euro interverrete. In che modo e con quali misure? Noi contiamo che non ci si torni sopra quella cifra. L'accordo che abbiamo è che qualora per situazioni internazionali, problemi non dipendenti dall'Italia, si arrivasse a quell'aumento che gli italiani hanno subito nei mesi scorsi e nella scorsa estate, il governo interverrà con un blocco come è già stato fatto l'anno scorso. Però oggi siamo a 1,8 quindi conto che il 2 davanti non lo si veda più. Se dovesse ricomparire per crisi energetiche internazionali il governo interverrà. Sarebbe un taglio delle accise come quello già visto? Mi sembra evidente. Certo. Ci sono buone novità per quanto riguarda i gestori dei lidi attrezzati sulle spiagge. Il tema è quello della direttiva europea che impone di mettere al bando, quindi di mettere in gara le concessioni future. Potrebbe esserci una proroga per quanto riguarda il settore. Infatti andiamo a leggere una notizia che arriva dall'agenzia ANSA. La proroga sarebbe di un anno per la messa a gara delle concessioni e dovrebbe essere approvato, secondo quanto si apprende, l'emendamento previsto da Forza Italia che andrebbe a integrare quello dei relatori su mappatura e riordino. La maggioranza, secondo quanto riferito, dovrebbe infatti appoggiarlo. Dunque non più 2023 come scadenza ultima delle concessioni attualmente in vigore, con tante proroghe concesse nel corso degli anni, ma 2024. Dopodiché per le concessioni dal 2025 in poi queste dovranno essere assegnate attraverso gare d'appalto pubbliche aperte a tutti, non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Questo è quello che prevede la cosiddetta direttiva Bolkenstein. Staremo a vedere come andrà a finire, argomento nel quale ci siamo preoccupati di darvi informazioni e approfondimenti e ce ne siamo occupati nelle settimane scorse, ma che certamente imporrà di tornare di nuovo a parlarne. Parliamo adesso di cyberbullismo con una iniziativa a San Vito al Tagliamento. Sentiamo. Oggi, 7 febbraio alle ore 20 e 30, presso il Teatro Gian Giacomo a Rigoni in Piazza del Popolo 13 a San Vito al Tagliamento, si terrà la serata di formazione per genitori, responsabili educativi, insegnanti e animatori, dal titolo Comunità connessa, opportunità e rischi delle tecnologie digitali. Alla serata, organizzata dal Comune di San Vito al Tagliamento, l'Officina dei Bozzoli, l'Azione Cattolica San Vito al Tagliamento, a GESCIT San Vito al Tagliamento 2 e il Comitato Genitori San Vito, interverrà Matteo Maria Giordano, media educator e consulente scolastico per l'educazione alle nuove tecnologie. La serata si svolge in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, celebrata nella giornata di oggi, 7 febbraio. Una giornata istituita nel 2017 su iniziativa del MIUR, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca, nell'ambito del Piano Nazionale per la Prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo scuola. Una chiamata per dire no al bullismo, dedicando la giornata ad azioni di sensibilizzazione per gli studenti e la comunità. La giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo si tiene in concomitanza con il Safe Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete promossa dalla Commissione europea, che quest'anno compie 20 anni. Adesso parliamo invece della proposta di legge per la riforma in ambito regionale dell'accoglienza, l'immigrazione. L'immigrazione non è solo quella dei richiedenti asilo, questo è un concetto che ha espresso l'assessore Pierpaolo Roberti per illustrare ai consiglieri della Sesta Commissione, riuniti in aula dal Presidente Giuseppe Sibau, il disegno di legge di riforma del settore. La vecchia norma, ha detto Roberti, era completamente centrata sul tema dei richiedenti asilo e della rotta balcanica, al punto che noi abbiamo dovuto finanziare la comunità serba e la comunità croata al di fuori della legge sull'immigrazione. Si parlerà di questo ancora nel dibattito in aula che partirà domani, giovedì 9 febbraio, ma noi questa sera avremo in studio nel Tg delle 19 e 15 Furio Onsel, consigliere regionale di Open FWG, che ci parlerà di questa legge che domani andrà alla discussione in aula e poi al voto per capire quali sono le criticità che vengono fuori e che sono state segnalate anche dai cosiddetti portatori di interesse, cioè da chi si occupa dell'accoglienza e della gestione degli immigrati sul nostro territorio ed in particolare dei giovani, dei minori, che sarebbero circa 1.500 su tutto il territorio del Friuli, Venezia, Giulia. Sono stati forniti dall'Agenzia regionale per l'ambiente i dati sulla raccolta differenziata. È venuto fuori che il Comune di Pordenone nei primi sei mesi del 2022 ha differenziato i rifiuti per la percentuale record dell'82%, mentre è calata la percentuale al di sotto del 70% per la città di Udine. Per quanto riguarda Pordenone andiamo a vedere il servizio. L'ARPA ha pubblicato in queste ore il report del primo semestre 2022 in Friuli, Venezia e Giulia in tema di rifiuti urbani. Prata di Pordenone risulta il comune più virtuoso della provincia di Pordenone, maglia nera invece per Bacis. Secondo i numeri pubblicati dall'Agenzia regionale, gli abitanti del Friuli, Venezia e Giulia, nei primi sei mesi dell'anno scorso, hanno prodotto 276 tonnellate di rifiuti con una media che si aggira sui 231 kg pro capite. Il dato che va tenuto in considerazione è quello della raccolta differenziata, che sempre secondo l'ARPA ha subito un calo rispetto al trend del periodo precedente fermandosi al 64,8%. Addentrandosi tra i dati si nota che nei primi sei mesi del 2022 Prata di Pordenone ha prodotto due tonnellate di rifiuti con una media di 250 kg pro capite, ma di questi scarti ben l'86,6% è stato oggetto di raccolta differenziata. Segue Roveredo in Piano con un totale di una tonnellata e 400 kg di rifiuti prodotti e una stima di 254 kg prodotta da ciascun cittadino. In questo caso la raccolta differenziata si aggira sull'83,6%. A chiudere il podio è il capoluogo pordenonese con più di 12 tonnellate di rifiuti prodotti, una media di 247 kg a persona e un riciclo dei rifiuti urbani che si attesta sull'82,08%. Ribaltando la classifica invece è il comune di Barci, sa ad avere il dato più basso della raccolta differenziata con il 42,4%, seguito da Erto e Casso che si fermano al 44,4% e Claut con il 50,4%. E' partito il conto alla rovescia per Gorizia-Nova Gorizia 2025, capitali della cultura che unisce questo evento, appunto le due città. La data scelta per l'inaugurazione è l'8 febbraio, giorno in cui ricorre un doppio anniversario che lega il paese sloveno Preschen e Giuseppe Ungaretti. Il sindaco Ziberna sarà a Roma a parlarne con il ministro San Giuliano la prossima settimana. Vediamo. Go 2025, abbiamo la data ufficiale d'inizio. Stiamo contando i giorni che ci separano all'8 febbraio del 2025. Un giornata scelta dalla Repubblica di Slovenia per inaugurare la capitale europea della cultura perché coincide con una data importante, con la morte del loro più grande poeta romantico sloveno e tra l'altro coincide anche con un'altra data importante, pochi decenni dopo sarebbe nato Giuseppe Ungaretti che pur non nato qui, però qui visse, qui fece il soldato e qui scrisse delle opere toccanti, stupende, che rimangono nel cuore oltre che naturalmente nella storia del nostro paese. Io ringrazio anche il ministro San Giuliano che ha voluto testimoniare la sua presenza con una dichiarazione, un comunicato estremamente importante, oltre che la regione presente insieme attraverso l'assessore Tiziana Gibelli alla cultura e naturalmente la direttrice del GECT che ha sottolineato appunto come si stia lavorando alacremente verso questo traguardo che certamente è quello del 2025 ma in realtà è quello del 2030, 2040, 2050 perché non so quanti abbiano piena consapevolezza che stiamo lavorando per cambiare la storia nel vero senso della parola, dei rapporti tra Gorizia e Nuova Gorizia e rapporti tra un lungo, un ampio territorio del nord-est italiano e del nord-ovest sloveno. Ungaretti è uno dei più grandi poeti italiani in assoluto, non solo del Novecento e per un'altra curiosa circostanza, un poeta che è nato da Alessandria d'Egitto, ha vissuto in Italia, ha vissuto a Parigi, ha combattuto la prima guerra mondiale sul nostro caso e molto ha scritto su questo territorio e mi ha fatto piacere quindi stamattina leggere tre versi di una sua poesia, I fiumi, nella quale cita tutti i fiumi della sua vita, i principali fiumi della sua vita e cita anche l'esonzo. Il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo istituito per legge nel 2005 per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo. La prefettura di Udine in collaborazione con il Comune ha promosso una serie di iniziative che coinvolgono anche i più giovani, gli studenti dell'Istituto De Ganuti in particolare, vediamo. Far conoscere e raccontare, ma attraverso le testimonianze di chi le ha vissute, le travagliate vicende del confine orientale, il dramma delle foibe e dell'esodo, per diffondere un messaggio di ospitalità e accoglienza in questo difficile momento storico. Segue questo filo rosso la serie di iniziative programmate da Prefettura e Comune di Udine in occasione del giorno del ricordo, il 10 febbraio, accanto alla commemorazione ufficiale al Parco Martiri delle Foibe, sempre venerdì mattina, al Teatro Palamostro ospiterà un momento di approfondimento storico con gli studenti dell'Isis De Ganuti, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La presidente provinciale, Bruna Zuccolinne. Io stessa posso dire che a scuola non studiavamo neanche ancora un po' questo periodo storico. Io sono nata a Trieste e non sapevamo praticamente del campo profugo di Padriciano. È un ricordo vago perché una bambina in classe era in questo cosiddetto campo profughi e veniva a pranzo da noi perché così sembrava fare le compagnie, però non sapevamo. Quindi proprio noi speriamo di avere, non solo noi, ma tutti fatto un notevole passo avanti e questo è sicuramente stato fatto, però bisogna lavorare tanto ancora. Così come avvenuto in occasione di precedenti iniziative, la Prefettura di Udine, in accordo con l'ufficio scolastico e la consulta degli studenti, ha scelto di coinvolgere per la mattinata un solo istituto superiore, il prefetto Massimo Marchesiello. È una scelta casuale ma che noi cercheremo di riproporre ogni anno perché è giusto che ogni istituto sia coinvolto complessivamente, globalmente, con tutti i ragazzi, in maniera che quella giornata sia dedicata all'interno della scuola a parlare di quel momento, di quel momento storico, più che fare una selezione di varie scuole che poi si possono anche perdere strada facendo. Questa cosa ci è sembrata utile, vorremmo riproporla, quindi sarà un tour che ogni anno si riproporrà con la giornata della memoria e con la giornata del ricordo di coinvolgere tutti gli istituti scolastici, possibilmente della provincia. Dopo un lungo periodo di oblio, negli ultimi anni si è cercato di togliere il velo su vicende per decenni divisive. La tragedia delle foibe, che ha visto la morte di migliaia di italiani torturati e uccisi dalle milizie di Tito dopo il 1943, è il dramma dell'esodo con 300.000 persone costrette a lasciare i territori italiani dell'ex Jugoslavia al termine del conflitto. Anche a Udine fu realizzato un centro di smistamento profughi in via Pradamano, ha sottolineato l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Qui transitarono migliaia di persone, non sempre accolte con calore, anzi spesso discriminate perché bollate come fasciste. Dal giorno del ricordo anche un messaggio di ospitalità e accoglienza. Vediamo il programma dei nostri appuntamenti in prima serata di oggi che riguardano, intanto per chi non avesse seguito questa mattina la puntata di Informa, alle 17 c'è la possibilità di fare un po' di ginnastica in nostra compagnia insieme alle istruttrici del Fanny Center di Tavagnaco. Poi alle 19 l'ora di sport che inizia con il telegiornale sportivo, l'ora di informazione che inizia con il telegiornale sportivo e prosegue poi con il Tg generalista fino alle 20.15. in questo spazio ci sarà anche la parentesi, ampia parentesi dedicata a Sanremo con Nicolangeli, i collegamenti e i contributi raccolti dal Poma in trasferta a Sanremo. Alle 20.30 informazione sulla salute a cura di ADN Cronos e poi alle 21.15, ecco il quadro della serata, ci sarà la prima puntata del format Tag in Comune che è stato girato a San Daniele del Friuli per questo primo appuntamento in collaborazione con BCC Credi Friuli, protagonisti di questo ciclo Giorgia Bortolossi e il Poma che porteranno le nostre telecamere e quindi nelle vostre case i luoghi e i comuni più belli della nostra regione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, appuntamento più tardi con il notiziario delle ore 19.15. Grazie. Grazie.